Cosa avete? Nella banalità di chiacchere Dentro la complicità di foto e lettere Mai promettere se non sei in grado Di mantenermi guarda caso Mi scrivo più tevo di non averlo Che tutto compreso Timoroso di voltarmi Per guardarmi e riconoscere Vivo nel presente Tanto va così Ti accorgi che la vita Molti posano Troppo in vivo da contatto Con una realtà Che non è di casa Se pretano a prendere decisioni Nell'attesa Di qualcosa con il rischio Di qualcuno con il rischio E' il motivo Che c'ha come una dentro la cornice Dentro la cornice Si emerge dal profondo fino in superficie Per riscoprire un po' com'è che va Cosa si dice Niente di nuovo come al solito Chi vive per il Judas Chi la fa finita Chi resta in vivo Tra mille situazioni che lo compromettono Tra mille piccolini che lo sfatano Chi rimane con i piedi a terra